Ciao a tutti, eccoci qui con la Gimme5 di questo mese e quest'anno io e Chiara abbiamo deciso di parlarvi di glitter. Caricheremo il video il 25 dicembre perché, e questa è stata un'idea di Chiara, ogni anno lei vuole che il 25 dicembre sia caricato un video per far sì che chi comunque non ama questa festività del Natale e chi comunque non può magari festeggiarlo, possa passare in qualche modo, qualche minuto in compagnia, seppur virtuale, di altre persone. Quindi siccome l'ho trovata un'idea molto carina, spero di poter, insomma, anch'io essere un po' di compagnia, ecco. Allora, si parla appunto di glitter. So che Chiara non ama molto i glitter, ma io sì. Io li amo tantissimo. E questo sarà un video tutto dedicato invece, anche se si può evadere appunto il discorso, sarà tutto dedicato al make-up. Quindi vi farò vedere cinque naturalmente prodotti e diciamo che alcuni sono gli stessi ma in diversi colorazioni, però siccome li trovo troppo belli, li faccio vedere comunque. Allora, i primi due di cui vi parlo sono di una collezione limitata che però ho visto riproposta qualche mese fa, ovviamente sotto un nome differente, però se li trovate in altre collezioni non ve li lasciate sfuggire perché sono meravigliosi. Sono della linea Posh Couture, numero 10 Surprising Violet, numero 03 Authentic Gold. E voi me ne avete visti utilizzati in un sacco di video. La confezione è bellissima, veramente molto bella. E sono questi qui. Sono in pratica dei glitter pressati, sì. Dite ciao al cavalletto, alla struttura, molto molto, eccoci qua, molto professional. Ed è, aspetta, su. Ecco qui. Sono bellissimi, questo qui in particolare modo è meraviglioso, però che no. E io vi consiglio di prenderli direttamente col pennellino che c'è in dotazione perché rilascia bene il prodotto. Vediamo. Dopo non potrò più uscire perché io sono combinata malissimo. L'inglittere, ma perché li ho messi qua? Mettiamoli sul ditino. Si vedono niente? Sì, si vedono. Considerate però che sono molto più pieni di così, eh. Cioè, quando li prendete con i pennelli risultano molto più pieni. Sono bellissimi. E poi c'è questo. Surprising Violet. Che è meraviglioso a sua volta. Hanno una texture piuttosto setuosa, devo dire. Sono proprio buoni. E cos'è il viola? È bellissimo anche questo. Magari se lo mettono un po' subidecente. Eccolo qui. Pieno, zappo di grit. Sono bellissimi. Questi sono davvero, davvero bellissimi. Dopodiché, questo qui, che è della Makeup Forever, io ce ne ho due. Allora, questi costano tantissimo. Se non ero costano intorno ai 32 euro. Sono stati un regalo. Perché ne ho due. Avuto in due diversi momenti. Sono stati dei regali. Sono estremamente sottili. Quindi non fanno assolutamente male. E si applicano benissimo. Quindi sono dei buoni prodotti. Ma 32 euro sono tanti. Quindi se potete, cercate altro. Non vi fossilizzate sul fatto che è la Makeup Forever. E sul fatto che comunque sono due grammi di prodotto che sono tanti. Ma trovate in giro anche qualcos'altro. Perché 32 euro sono troppi. Ad ogni modo. E questa polvere qui, che è multicolor. Io non so se... Aspettate. Come faccio a farvela vedere? No, ve la devo prendere su un dito. Se no non riuscite a capire la bellezza di questa. È su base marrone, da glitter rosa, verdi. Di tutti i tipi. E mi auguro vivamente che si riesca a capire qualcosa. E applico un pochino qua. Vediamo. Ho questi qua. No, non si capisce molto bene. Ovviamente questi sulle... Se volete un consiglio sulle basi cremose sono qualcosa di spettacolare. Bellissimi. E sono molto belli, appunto, molto fini. L'altra colorazione che ho... Allora, questa era la numero... Si chiamano polveri di diamante, comunque. Questo è il numero 5. Quello che vi ho fatto vedere. E poi c'è il numero 4. Che invece sono tutti sul dorato. Un dorato bello caldo. Molto caldo, questo. Ah, questi qua. Ecco, ecco. Sono bellissimi. Sono assolutamente bellissimi. Non li sentite assolutamente. E un altro piccolo consiglio. Aspettate che questo non li metto dentro. Un altro piccolo consiglio che vi do è quello di utilizzare un pennello, ad esempio, come questo. Sì, io tengo molti pennelli confezionati. Come questo qui, con la spugnata in silicone. Senza bagnarla. Solo prelevando, appunto, i glitter. E poi pigiandoli sulla palpebra mobile. Molto, molto carino. Dopodiché, vi consiglio, appunto, gli ultimi due prodotti. Uno sono questi glitter di Madina. Anche questi parecchio sottili. E questi sono tanti. Si chiamano Samba Time Glitter. Sono 2.5 grammi di prodotto. Ed sono, appunto, questi glitter argento. Molto carini anche questi. Molto, molto, molto carini. E' tantissimo prodotto, eh. Sono meno sottili rispetto alle polveri che vi ho mostrato fino ad ora. Ma non danno assolutamente fastidio. E questi sono bellissimi. Questi sono stati... Questo è stato un regalo di mio fratello. E credo costino intorno ai 7 euro. Così. E poi l'ultimo prodotto che vi voglio mostrare è una mousse in realtà. Ma io adoro questi prodotti di Maybelline. La tutta. Ed è la Dream Mousse I Color numero 02 Blissful Beige. Questi dovrebbero trovarsi ancora in giro. Ed è questa che è piena zeppa di glitter. E' una sorta di paint bot. Più scrauso, eh. Allora, sulla palpebra reggono, a me reggono, io ce l'ho anche uno verde. Ma dovete mettere un film talmente sottile, ma talmente sottile, che praticamente alla fine si vedono solo i glitter. Cioè si vede, anche oggi ce l'ho ad esempio, e ho un alone verde, appunto. Ma poi si vedono tutti i glitter argento. Stessa cosa per quanto riguarda questo. E' molto carino, un color palpebra mobile, proprio beige, con all'interno dei glitterini. E' molto molto carino. Vediamo se con questo lo posso prendere. Ma dovete prendere, i glitter sono argentati. Dovete prendere davvero un velo, un ciccinino di colore. Adesso, vabbè, calcolavano in maniera, devo farvi vedere. Ed hanno, dà una luminosità allo sguardo, ma è molto carino. E' una mousse, proprio. Vediamo se... Eccola, è qui. Vedete com'è luminosa? Eccola qui, è proprio questa. E' molto luminosa, e non so se si riescono a vedere, ma ci sono i brillantini all'interno. Che sono molto tenui. No, da qua forse no. Però forse sulla mano sì. Sono molto tenui, ma è molto carino come prodotto. A me piace. E l'unica cosa, ricordate, è che se la mettete anche solo un velo di più, vi andrà nelle pieghette. Quindi dovete calibrarlo bene, 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 questo. E a me piace come prodotto, è molto carino. Molto, molto carino. Va bene. Quindi, io spero insomma di aver tenuto compagnia tutti voi. Vi auguro un Natale che possa essere quantomeno il più sereno possibile. E vi auguro un Natale in cui possiate quantomeno stare con le persone che ritenete possano esservi accanto in un giorno del genere. E in questo caso quindi non solo i genitori, perché magari possono non esserci, ma anche gli amici o le persone che volete accanto. Possono essere anche animali, piante, tutto ciò che volete. Ma fate in modo di averle accanto. Io vi mando un bacione grande, buon Natale, buon Natale a tutti e al prossimo video. Ciao, buon Natale Chiara! Ciao, ciao!